Grazie il drago per il super 2, ti seguo, bomba come... Cioè se ci fosse l'occasione sì Ok, ok E... tu sei etero? Sì Convinta al 100%? Sì, per il momento sì, poi non so se in futuro cambiare idea, però per il momento sì Vabbè, cambia l'idea è anche una dimostrazione di maturità Mi diceva sempre mia nonna quando viveva No, è viva, però vegeta E... suonavi un strumento giusto? Suonavi tipo una roba con la bocca? Sì, il flauto Ah, il flauto è vero Traverso Il flauto di traverso, giustamente, qua nessuno E tu lo suoni Sì, perché il flauto normale è semplice da suonare, il flauto di traverso non Ok, ok, certo, certo, certo Senti Martina Tu sei etero? Sì, fino... Sì, fino... Ma purtroppo sì Perché purtroppo? Perché vorrei mi piacesse il cazzo Anche Perché almeno potrei fare molto più sesso Cioè avrei molte più porte aperte Però purtroppo non riesco a farmelo piacere È un... È prova È... Non... Proprio l'idea mi... Non riesco proprio Non riesco proprio E a me spiace davvero Ma purtroppo non riesco proprio E... mi dispiace A me veramente... Se fosse un tasto che mi rendesse bisessuale lo premerei Perché almeno potrei avere due modi per... Insomma... Per liberarti Certo, certo Per liberarmi Quindi... Però purtroppo non è così Mi capita di eccitarmi col mio gatto Sto scherzando Sì Sto scherzando Primoeter vola Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo Ma no! Diventerete famose Ciao ragazzi Ciao Ci vediamo quando diventa terribili Le famose Vola!